Attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di determinati effetti. Questo è uno dei significati da dizionario della parola resistenza. E la parola resistenza è una parola, come vediamo in questi giorni, ancora estremamente attuale ed è importante perché pretende un carico di responsabilità. Abitiamo una società civile, è difficile definirla tale se non la definiamo anche responsabile. E poi c'è la parola liberazione, che è una conseguenza della resistenza. Purtroppo la storia ci insegna che non è una conseguenza definitiva. Bisogna combattere, bisogna cercare di onorarla e non dimenticarci il nostro ruolo sociale, civile e umano. Sono Davide Di Leo in Arte Busta e dico 25 volte resistenza.